Si appresta a richiedere la qualifica di città che legge, qualifica che promuove e valorizza quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione e valorizzazione della lettura e del libro. A Grottaglio è un percorso che è cominciato qualche settimana fa con l'adozione della carta dei servizi della biblioteca. Aderendo al patto locale per la lettura si vuole dunque creare una vera e propria rete territoriale che comprenda tutti i rappresentanti della filiera del libro. Attraverso questo riconoscimento, quello di Grottaglio città che legge, intendiamo candidare la nostra città anche di importanti iniziative ed eventi culturali come festival dei libri, festival dei fumetti e tutto quello che ruota attorno alla lettura e alla promozione della lettura. La società attuale offre ai bambini e ai ragazzi moltissimi stimoli culturali ma per lo più di carattere multimediale e tecnologico occorre rigenerare la cultura dell'ascolto e della lettura finché non si lasci completamente il posto a quella del web. In un mondo forse troppo veloce e frenetico in controtendenza si ritiene dunque che la valorizzazione della lettura sia oltre che una proposta culturale anche un'occasione di crescita personale e sociale. L'invito è a partecipare e venire qui a leggere, incontrarsi e utilizzare questo bellissimo colunico ma soprattutto leggere i tantissimi libri che l'amministrazione comunale sta acquistando e sta mettendo a disposizione gratuitamente per la collettività. Il patto per la lettura è dunque un modo per rendere la pratica della stessa un'abitudine sociale diffusa ed avvicinare alla lettura tutti i cittadini fin da piccoli.